Giornale del 1864. Corre voce che la società delle ferrovie sia per intraprendere i lavori di un gigantesco ponte sullo stretto di Messina. 15 maggio 1864. Quant'è che la finirete i tagliotti di credere a queste bufole? Sono più di 150 anni che dicono sta bufala del ponte sullo stretto e abbiamo speso un casino di soldi e i giornali le rilanciano e chissà se la vedremo mai questo ponte prima di morire. Io ne dubito e voi?